In un modo o nell'altro la Svizzera riesce a classificarsi, io darei un premio speciale al signore Erciardo, io la volevo premiare perché lei ha un grande attenzione alternativa, ma lei fa il produttore di orologi svizzera, però è un grande commerciante, però dovete dare l'attenzione svizzera di orologi, ovviamente non scherzo, i soldi insomma sono... Ma che ne ritengo, i soldi sono nostri! Una medaglia gliela regaliamo